Il Corriere della Sera, quando scoppia il mitico 68, è considerato dal movimento studentesco e in genere dai vari movimenti extraparlamentari di sinistra come il giornalone della borghesia milanese, naturalmente anche il giornalone della reazione. In quel momento il direttore del Corriere della Sera è Spadolini, che non era certamente un fascista, però era altrettanto sicuramente un conservatore, agli occhi del mondo della contestazione giovanile. Il movimento studentesco protesta anche in modo vehemente, con qualche episodio anche di violenza, nei dintorni di via Solferino, ci sono barricate, incendi, interventi della polizia. E tutto questo nel momento in cui al Corriere c'è una proprietaria, Giulia Maria Crespi, che è considerata molto vicina al mondo del movimento studentesco e a Mario Cappanna in particolare. Era un'imprenditrice lombarda che era rimasta affascinata dalle nuove idee che emergevano dalla contestazione del 68. Spadolini lascerà la direzione del Corriere nel primi anni 70 e arriverà Pierottone, che farà un giornale molto più aperto ai movimenti del 68. Per qualcuno talmente aperto dall'essere quasi flirtante con il movimento studentesco e l'estrema sinistra in particolare. Cosicché nel 74 molti giornalisti del Corriere, tra cui Montanelli, che era il capofila, se ne andarono e fondarono il giornale, che era un giornale liberal democratico di centrodestra. Quindi si può quasi dire che la contestazione del movimento studentesco del 68 ha vinto, nel senso che il Corriere poi cambiò linea politica. Il Corriere è rimasto in realtà il grande giornale della borghesia lombarda di sempre e la borghesia lombarda è una borghesia che è molto attenta ai tempi che cambiano e che cerca di interpretarli. Questo è il Corriere. Quando io ci sono entrato nel 1985, per dire che così era il Corriere, c'erano ancora alcuni divieti nella scrittura. Non si poteva scrivere in seno a, perché era considerato volgare. Non si poteva scrivere verifica, perché si temeva il modo in cui potesse andare a capo questa parola. Questo per dire come poteva essere visto nel 68 un giornale come il Corriere della Sera.